Gli smile in Sicilia, poi la volta dopo fanno loro i solisti, poi però chiuderemo tutti insieme, perché se sono stati attenti rimane meglio solo a guardare, e va di voi e loro che invece sono attenti, brah, gli fregheranno subito. L'incontro fra i bambini e i diafasici diventa un momento per vivere delle esperienze generative, per gettare anche le basi di quelle che potrebbero essere le basi del volontariato futuro, un terreno fertile, l'humus, su cui seminare i futuri volontari di domani. Lo dico sottovoce, ma poi voi fate casino e quindi si capisce che stiamo iniziando. E qua abbiamo veramente chi si affaccia a questo mondo da poco e chi in qualche misura sta. rinascendo, grazie soprattutto anche alla musica e al canto. L'affasia è questo disturbo del linguaggio che colpisce i soggetti dopo un ictus? Però è dura, ci mettono due ore a vestirmi. La parola è qualcosa di così prezioso, loro lo sanno bene, donarla durante un concerto, soprattutto a Natale, diventa qualcosa di straordinario. E noi sulla spinta emotiva riusciamo a unire un suono, una sillaba, due sillabe, e quindi una parola, due parole, tre parole, sempre con il ritmo, con l'intonazione. A volte piangiamo anche, sapete? Con divisione della sofferenza, con divisione dell'amore, con divisione dell'amicizia, con divisione della forza e divisione di tutto quello che facciamo noi col cuore. Tutti amici siamo insieme, che ci facciamo. Tante volte è sufficiente stare di fronte l'uno all'altro e guardarsi un pochettino meglio. Poi si scherza, facciamo anche il carattino. Purtroppo nel tempo qualcuno, non voglio dire, ci ha lasciato, si è semplicemente spostato altrove. Purtroppo nel tempo qualcuno, non voglio dire, ci ha lasciato, si è semplicemente spostato altrove. Il mio fratello vi descriveva come persone veramente speciali. Io so che Enrico è tutto il momento che sta cantando con voi, e sono sicura di quelli che... Alleluia! 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 Alleluia